Due incroci con avversarie campane, un match casalingo da non fallire e il programma delle altre pugliesi nel turno numero 25 del girone C di Serie C. Tutti in campo di domenica ed è quasi una novità in un torneo che ci ha abituati al calendario spezzatino. Si parte alle 14 con il Brindisi che ospita il Latina e va alla ricerca della prima vittoria al Fanuzzi in questo campionato. Sin qui Bunino e compagni hanno vinto una sola partita in casa a settembre contro il Monterosi ma giocando sul neutro del Monterisi di Cerignola. Di fronte un avversario che è uscito dalla zona playoff con i suoi 31 punti e ha vinto una sola volta nelle ultime nove occasioni. Alla stessa ora tocca alla Virtus Francavilla, vogliosa di cancellare la sconfitta beffa rimediata nel finale a Messina. Seconda trasperta di fila per il team di Roberto Chiuzzi, terzo ultimo a quota 21 alla pari con la Turris. Farà visita al Giuliano decimo in classifica ma secco di vittorie da tre partite. Molto più delicato l'impegno casalingo del Monopoli. Alle 14 la formazione di Roberto Taurino attenderà al Veneziani la Juve Stabia, capolista indiscussa del raggruppamento. Nell'ultimo turno le Vespe di Paiuca ne hanno fatti quattro al Cerignola e sin qui hanno incassato appena 11 reti in tutto il campionato. Per i Biancoverdi la missione è quella però di far risultato per riscattare il K.O. di una settimana prima con l'Avellino e dare una scossa alla classifica che li vede quintultimi a 23 punti. Continuità e invece la richiesta al fine settimana del Picerno trasferta di pochi chilometri per i Lucani di Emilio Longo approdati in seconda posizione in solitaria grazie alla vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Catania. Murano e Soci saranno ospiti del Sorrento, club ottavo in classifica che gioca le partite casalinghe al Viviani di Potenza e cercheranno di dar seguito a un filotto positivo di cinque partite fischio d'inizio alle 18.30 a inaugurare il turno di sabato sera a Monterosi Potenza alle 20.45. La squadra di Marchionni cerca sul campo dell'ultima della classe una vittoria che consentirebbe almeno per una notte l'aggancio alla zona playoff.